Siamo Matilde e sono di Napoli. Non potevo credere ai miei occhi quando ho scoperto che era l'amante di mio marito. E questa è la mia storia. Accominciamo. Sono sposata con mio marito ormai da più di 30 anni. Abbiamo dei figli. Un matrimonio abbastanza tranquillo. Un matrimonio costruito con l'amore, con la fiducia, con la stima. Dopo 30 anni penso di conoscere mio marito forse meglio di se stesso. Mio figlio più grande si fidanzò con una ragazza. Questa ragazza, devo essere sincera, non l'ho mai vista di buon occhio. Però era la fidanzata di mio figlio ed è per questo che la rispettavo. Come si dice a Napoli, si rispetto cane po' padrone. Comunque io la trattavo come una figlia. E vedere mio figlio che stava felice insieme a lei mi faceva stare bene. Mio marito a un certo punto iniziò a cambiare. Diverso. Chi è sposato da tanti anni lo sa. Il proprio partner lo conosce subito quando succede qualcosa. E io capì che stava cambiando qualcosa. Avevo capito che era entrato qualcuno nella sua vita. Che forse si era infatuato di qualcuno. Non lo so perché, ma avevo questa sensazione. E nel mentre cercavo di capire chi era questa persona e cercare di indagare, vedevo che quando veniva questa ragazza a casa, mio marito come se fosse più attento alla cura del suo corpo. Vedevo degli sguardi. Fra me e me pensai di essere pazza. Pensai di essere cattiva. A pensare solo una cosa del genere. di poter solamente elaborare un pensiero. Questa ragazza comunque dopo un po' lascia mio figlio. E io continuo a indagare sul mio marito. E purtroppo scopro quello che non avrei mai voluto scoprire. Mio marito e questa ragazza hanno avuto una storia. Quando l'ho scoperto mi è caduto il mondo addosso. Ci può stare che si è tradito. Dopo tanti anni di matrimonio. Non è giustificato, assolutamente. Ma lo metto in conto. Soprattutto oggigiorno che è diventato tutto più facile. Ma quello che io non riesco a capire. Come ha potuto con una ragazza che potrebbe essere la figlia. Come ha potuto con la ragazza che era la fidanzata del figlio. Vuol dire oltrepassare al proprio sangue. Passare su tutti i valori che si è costruiti. E poi, in casa mia, davanti a me, sotto i miei occhi. Con quale rispetto, con quale coraggio, si è permesso di fare una cosa del genere. Ovviamente per il bene dei miei figli e per il bene della famiglia. Loro non sanno, non ho spiegato chi era l'amante del padre. Perché lui l'ho cacciato di casa, ovviamente. Non riuscivo neanche a guardarlo più negli occhi. Mi faceva ribrezzo per quello che aveva fatto. Per quello che mi aveva fatto. E per quello che aveva fatto a suo figlio. Di quella ragazza non mi lascio neanche immaginare i sentimenti che provo. In casa mia. Mi è venuto a prendere in giro a casa mia. Io pensavo che si facesse bella con mio figlio. Invece che ella veniva a corteggiare a mio marito. Non avete idea di quanta rabbia in corpo. Di quanto mi sento delusa. Di quanto mi sento devastata. Veramente. Cioè, allora... So che anche lui manterrà il segreto. Perché gli conviene. Perché non può dire al figlio che la fidanzata l'ha lasciata per colpa sua. Perché aveva una storia col padre. Eppure sembrano storie così reali. Cose che si vedono solo nei film. E io mi chiedo. Ma come può lontanamente un padre o una madre approcciarsi al fidanzato di un figlio o della figlia? Al marito della figlia. Perché purtroppo ho sentito tante storie del genere. È vero che l'amore non ha ragione. Ma la testa si controlla. Il problema non è che si è innamorata. Perché prima di innamorarsi ci sta tutto un percorso. Vuol dire provare attrazione. Vuol dire incominciare. Ma tu sei consapevole quando inizi. Non siamo animali. Esiste il rispetto. Esiste la fiducia. Esistono i valori. E non riesco a perdonarlo. Nonostante lui mi supplica di tornare insieme. Ma con quale coraggio faccio tornare? Come? È come se mi fossi sentita vecchia tutto in un giorno. Sì, perché è mio marito che si approccia a una ragazzina. Dove dove sono andata a finire tutti gli anni che siamo stati insieme sacrifici, le lotte, le battaglie, sorrisi, le gioie. Dove sono andata a finire? In casa mia. Davanti a me. Calpestando pure suo figlio. Come faccio? Non me ne faccio una ragione. Dirlo è una cosa ma provarlo non è un'altra. Non è una cosa che non auguro a nessuno. È un dolore troppo grande. È un segreto troppo grande che mi devo tenere dentro e che non so fino a quanto veramente riuscirò a sopportare tutto questo peso su di me. È una cosa indicibile. Veramente. A volte si pensa che certe realtà non esistono. e poi quando capitano in casa tua ti rendi conto che veramente ci sono delle cose che succedono che mai andresti a pensare e che mai ti rimane nella vita purtroppo. Io non posso mai dire questa cosa a mio figlio. Mio figlio perderebbe non solo la fiducia nelle donne ma anche la fiducia di suo padre. e io non gli posso fare questo torto. So che sarebbe giusto ma non lo faccio per mio marito. Io non se lo merito. Lo faccio per mio figlio perché lui deve sapere che non tutte le donne sono così. E quella ragazza speriamo che non la incontro mai perché altrimenti quattro gliele dico. Buona vita.